buongiorno a tutti sono marco bierbon solo un breve video per illustrarvi le piccole grandi novità un piccolo upgrade che questo tool questo ausilio ergo brass ha messo in campo ultimamente il sistema è esattamente lo stesso quindi consente di appoggiare lo strumento ad una sedia ad esempio e di togliere tutto il peso dalle spalle dal corpo mentre stiamo studiando ad esempio quali sono i cambiamenti piccoli ma grandi il primo è un sistema di sgancio assolutamente rivoluzionario molto semplice però molto efficace in un secondo l'aggeggio è pronto per essere utilizzato e il secondo è proprio la piccola borchia che è possibile adesso avvitare con una brugola allo strumento e quindi anche togliere in pochissimi secondi per permettere appunto di usarlo non usarlo a seconda trovo che sia un sistema molto semplice molto ingegnoso e molto vantaggioso permette di aggiustare l'inclinazione dello strumento in ogni direzione praticamente quindi non ha nessun limite di utilizzo e il fatto di studiare ore e ore o di far lezione come nel mio caso ore e ore senza sentire fatica sul corpo sulle spalle è un grande vantaggio quindi ergo brass con questo piccolo cambiamento a presto ciao grazie a tutti